Ho scelto di fare la ballerina perché mentre il lettore propone un concetto, il ballerino facilita la comprensione. I ballerini inoltre ballano durante le canzoni in modo da rendere più piacevole l'ascolto. I ballerini hanno un senso di ritmica. Io ho scelto di fare la ballerina perché mi piace e perché è un modo per me per esprimermi al meglio. Per fare il ballerino bisogna avere disciplina e seguire le regole della regina.